Un'acrobazia di Cataccia, 7 minuti dal novantesimo, regala il gol dell'aggancio ed evita il Gravina di concludere con una sconfitta il secondo campionato di Serie D della propria storia. Finisce 1-1 al vicino la sfida tra i Murgiani e la Versa, settima posizione finale a quota 52 punti per i gialloblu di Diaududu. I campani invece dovranno provare a confermare la categoria nel play-out che giocheranno il 20 maggio in trasferta contro la Turris. Gara tutt'altro che indimenticabile, i ritmi non sono mai elevati, i padroni di casa d'altronde non possono già da diverse settimane a umbire ad un posto tra le migliori 5 del girone H e concedono spazio anche nell'11 di partenza a diversi giovani. Discreto avvio su entrambi i fronti ma la prima frazione va in archivio senza rete e con poche emozioni. La ripresa invece si apre con una buona occasione per parte. Ionut per il Gravina non finalizza con il destro da posizione favorevole, Variale per la Versa non sa incidere dalla parte opposta. Il parziale cambia a metà della seconda frazione sui sviluppi di un calcio d'angolo infatti e il mio entrato Nicolao a colpire sorprendendo la difesa dei Murgiani. Non ci sta in ogni caso il Gravina che vuole concludere questo campionato comunque con un risultato positivo. Il gol dell'aggancio arriva nell'ultimo segmento di gara e porta la firma del difensore centrale Cacace abile a far centro con una rovesciata indirizzata all'angolino. Prima dello scadere poi ci prova Di Prisco per gli ospiti ma Lullo risponde presente e blinda in maniera definitiva l'uno a uno.